ben ritrovati se state cercando una soluzione similipendente con un ampio giardino privato questa è la soluzione che fa per voi andiamo a scoprirla insieme eccoci alla fine del video vi saluto da questa meravigliosa vista che vedete alle mie spalle per ricevere maggiori informazioni o per fissare la vostra visita privata contattatemi al numero qui sotto oppure venite a trovarmi in agenzia in via Lessigni numero 52 a Cerro Veronese a presto